Rossano Breda è il nuovo direttore della Caritas della Diocesi di Como e succede a Roberto Bernasconi, mancato il 17 marzo scorso. Il vescovo Monsignor Oscar Cantoni nelle scorse ore ha visitato la sede della Caritas a Como per incontrare gli operatori e comunicare loro la scelta fatta. Assieme a Breda sono stati indicati due vice direttori, il diacono permanente Giuseppe Menafra, competente per il territorio della Diocesi di Como, delle province di Como, Lecco e Varese, e Don Augusto Bormolini, competente per il territorio della provincia di Sondrio. Le nomine sono valide per il triennio 2022-2025. Si faccia tesoro della ricca esperienza maturata in questi anni, ha detto il vescovo, il decreto di nomina reca in calce la data del 25 marzo, solennità dell'annunciazione, ed è proprio a Maria che il vescovo affida l'operato della Caritas. La Vergine Maria, prosegue infatti Monsignor Cantoni, con la sua celeste intercessione, ottenga su tutti gli operatori della Caritas diocesana la forza, la speranza e la gioia necessarie per continuare a dedicarsi con generosità all'impegno di realizzare lo sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Di fronte a questa nomina, è il primo commento di Rossano Breda, mi sento prima di tutto di dire grazie. Un grazie sincero va anche a Roberto Bernasconi, di cui sono chiamato a raccogliere la non facile eredità. A lui va il ringraziamento per avermi mostrato il volto di una santità della porta accanto, nel suo stile di accoglienza, con il suo sorriso sempre pronto, la sua fermezza e la sua determinazione. Consapevole, conclude, di come quando c'è un bene da costruire, bisogna avere anche il coraggio di prendere delle decisioni. Al momento della nomina, Breda era referente diocesano per la pastorale e operatore del servizio di porta aperta. Il nuovo direttore ha vissuto una lunga esperienza missionaria in Brasile tra il 1999 e il 2003. È sposato e ha due figli.